La Carina Coltini, 13 secondi e 3 top La Carina Coltini, 13 secondi e 3 top La Carina Coltini, 14 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 secondi e 3 top La Carina Coltini, 24 secondi e 3 top La Carina Coltini, 15 secondi e 3 top Un grande affatto per il punto di 17 metri. Potremmo premiare gli amatori e i amattini dentro del centro. Capoghilla, Bracchetti, le portano, sono attenti qua al podio. Dai Dani! Daniele dai! Prendiamo l'appello 3.000 metri 3.000 segnore, sono attenti ai primi. Quindi la gara delle 14.55, il numero 0, il numero 0, il numero 0, prendiamo l'appello per il 3.000 metri, segnore, sono attenti ai primi. Per le premiazioni siamo in a sede di Ivan Capoglina, Andrea Fracchetti, Sergio Borsanotti, Amadoria, gente del peso. Per le premiazioni siamo in a sede di Ivan Capoglina, Tunga Balcona, 3-29-49. Bravo Daniele, vai! Bravo Daniele! Bravo Daniele! Bravo Daniele! Bravo Daniele! Bravo Daniele! Bravo Daniele! Premiazione ai veterani. Deputati del peso. Bartani, Lutinelli e Orsinger. Franco Bartani, Sergio Lutinelli, Giuliano Orsinger. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.